Ciao, quindicesimo giorno di quarantena, non c'è tanto per essere felici, comunque abbiamo sporato le due settimane. La quarantena list procede spedita e siamo quindi al quinto giro di canzoni, dopo l'incursione ieri di Gava, di Simone Tempia e dei Rumor Nero, che magari mettiamo anche loro un po' nella playlist perché se lo meritano. Dicevo, oggi abbiamo nuovamente gli ospiti carini, nel senso che abbiamo musicisti, abbiamo artigiani del nostro settore, abbiamo gente che lavora nel nostro settore e abbiamo anche un supereroe, lo vedrete poi durante l'intero video. Vi ricordo di seguirci poi su YouTube, dovete suonare la campanellina quella del nostro meraviglioso canale e su Spotify, vi faccio vedere questa meravigliosa guida di come si fa. Ok, avete capito come si fa? Lo riguardiamo. Dai, si comincia. Ciao, sono Teo degli on-off e vista la situazione che stiamo vivendo sono blindato in casa e sto ascoltando Highway 12 di Niki Lisi. Ciao a tutti, il mio brano anti-corona è Give It To Me di Leila Zo. Ciao ragazzi, io in questi giorni sto ascoltando beer, beer, beer dei corpi clani. Probabilmente perché mi manca la birra. Ciao, MathVox. In questi giorni di quarantena, obbligata ovviamente, voi potete notare anche dei miei capelli che non li tocco da una settimana. Sto riscoprendo tanto la musica anche grazie al mio programma radio. La canzone che ultimamente sto ascoltando più spesso è Misteria degli Head Guy. State a casa ragazzi. Io vi aspetto su Radio 15 Minuti, giovedì alle 9 e un quarto. Ciao. Ciao a tutti, sono Elisa e in isolamento mentre Sferruzzo ascolto At The Door degli Strokes perché credo che sia la canzone giusta per questo momento. Ciao. Ciao ragazzi, un saluto da Andrea, Dofix. Nella tanna della Dofix nessuno entra e nessuno esce. Chi ci conosce sa che gli due sono ben apprezzati. In sottofondo la nostra playlist rigorosamente in vinil. Sono Hulk da Dolceacqua e aderisco all'iniziativa dei Roommates, quindi condivido un pezzo che ascolto quando non combatto il crimine che si chiama 7.5 degli Halalas. Non fatemi arrabbiare, seguite i Roommates. Ciao, sono Diego. Anch'io recluso per questa emergenza coronavirus, cosa che spero si risolverà presto bene. Volevo consigliarvi di ascoltare Brent Bjork, Too Many Chips in particolare, senza motivi perché non si servono per ascoltare Brent Bjork. Ciao, sono Cecilia e in quarantena ascolto Kids degli MGMT. Ciao, sono Chris. Avrei voluto ascoltare da giorni l'ultimo dei Targen e invece ascolto da giorni l'ultimo dei Roommates che salutano. Grazie a tutti.